Ciao Rattilover, stai cercando una monovolume compatta ma spaziosa? Fiat 500L Trekking, 1.6 di cilindrata a 120 cavalli, è proprio l'auto che fa per te! Parliamo di un'autovettura aziendale, quindi certificata e garantita perché ha superato il test dei 100 punti di controllo dei nostri automotive expert. Alimentazione a diesel, per consumi reali medi di soli 4.2 litri ogni 100 km. Bellissimo e super originale questo color grigio moda, doppio baffo tipico del brand Fiat a separare il gruppo ottico anteriore rotondeggiante di carattere. Frontale rotondeggiante e dettagli cromati sia sulle maniglie delle portiere che nella parte inferiore della fiancata. I cerchi sono in lega da 17 pollici e vediamo insieme le condizioni del battistrada che sono davvero impeccabili. Il bagagliaio con luci di cortesia e doppio fondo parte da una capienza di 412 litri e arriviamo a 1480 litri di capienza battendo i sedili posteriori. Super spazioso e accogliente è l'abitacolo con il tettuccio panoramico e gli interni chiari che lo rendono ancora più luminoso. I sedili curatissimi sono in tessuto e il sedile centrale può diventare un pratico poggiabraccio estraibile. Attacchi per i seggiolini dei vostri bambini a entrambe le sedute posteriori esterne. Vassoio con porta bibite dietro ai sedili anteriori e tasca porta tutto. Bellissimi e super curati gli interni delle portiere sia anteriori che posteriori con questi dettagli chiari. La plancia è curatissima e di design. In nero lucido il volante è in pelle con numerosi tasti per la gestione dell'infotainment, tra cui il comando vocale e i comandi per la gestione delle telefonate. Posteriormente troviamo la levetta del cruise control, poco più di 55.000 km percorsi e dal pratico display incastonato tra le bocchette dell'ariazione al centro della plancia possiamo gestire tutto l'infotainment. Dalla radio ai media, possiamo accedere alla navigazione, connettere il nostro smartphone e accedere a tutte le impostazioni di setup della vettura e al sistema Uconnect. Inferiormente troviamo il clima analogico B-zona, una pratica presa USB, un piccolo vano porta oggetti, la presa da 12 volte, un doppio porta bibite, il cambio è manuale. Troviamo anche il bracciolo comodissimo per il sedile del guidatore. I sedili anteriori riprendono gli interni delle portiere chiari e sono bicolor, sono morbidissimi e hanno anche il sostegno laterale. Cosa fare quindi se siete interessati a questa bellissima 500L? Correte sul nostro sito rattiauto.com dove potrete riservarla senza impegno per 7 giorni con soli 100 euro, potrete riceverla direttamente a casa vostra con il nostro servizio di consegna a domicilio con igienizzazione e non dimenticate di seguirci su tutti i social e di cliccare sulla campanellina del nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri ultimi video. Alla prossima auto!